Continuano senza sosta i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri di Caltanissetta, anche con l'uso dell'etilometro. Nel fine settimana, come recita la nota, sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 37 veicoli e 59 persone, elevate nuove sanzioni amministrative relative a infrazioni al codice della strada, sottoposte a fermo amministrativo un ciclomotore, ritirate due patenti di guida e sequestrate amministrativamente due auto. In particolare a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, i militari dell'attenenza hanno deferito un 47enne residente a Vittoria, nel Ragusano, che fermato a bordo della propria auto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico. Nel capologo Nisseno i carabinieri della sezione radiomobile hanno effettuato 5 perquisizioni personali, all'esito delle quali sono stati trovati 7 grammi di hashish e segnalato alla prefettura un 16enne quale assuntore di sostanze stupefacenti. Grazie. Grazie.